Di fronte alla realtà delle famiglie, per esempio in Cile concretamente, quando io guardo che il 70% dei bambini nascono fuori dal matrimonio, quando penso che un 40% delle famiglie non vive la realtà ideale della famiglia, quando scopro elementi di povertà che influisce fortemente sulla consistenza della famiglia, quando sento che i genitori sentono una preoccupazione gravissima, forte per l'educazione dei propri figli, non posso solamente rilevare questo dato come un dato statistico. C'è bisogno che il cuore della Chiesa, che il cuore dei pastori, che il cuore di tutta la Chiesa, anche dei laici quindi, sentano che questo problema non è un problema solamente di statistica, ma è un problema che tocca ciascuno di noi. E quindi viene anche il terzo atteggiamento, che cosa fare? E che cosa fare anche con semplicità, con interventi che non sono quelli che salveranno il mondo, ma che danno risposta a problemi molto concreti di questa famiglia, di queste famiglie. I microprogetti sono sempre capaci di grandi trasformazioni, o le grandi trasformazioni sono fatte da piccole trasformazioni, che appunto nascono dal vedere, dal sentire, e che quindi muovono anche a un tipo di azione che risponda a questi bisogni. Grazie. 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 Grazie.